Lo pseudonimo Maralli era un ucchetto tenuto dai cognomi delle sue due nonne, Marazzina e Vigorelli, mentre Pe'è vagliato fu un anagramma di Pie e Tovaglia coniato in occasione della sua collaborazione, con Elio e le storie tese Claudio Bisio. Nel 1986 partecipò a un'audizione per il telefilm tratto dal cartone animato Kiss Milicia e venne presa come doppiatrice del personaggio Grinta. Nel 1989 diventò conduttrice della trasmissione Ciao Ciao cantandone anche la sigla di apertura. Nel 1992 fu anche inviata speciale della stessa trasmissione, interpretando l'investigatrice della natura nella miniserie sulle orme di Paola, dove raccontava in modo divertente il mondo degli animali attraverso alcune famose riserve naturali. Lavorò anche nella miniserie Una vacanza fantasmagorica, dando vita a una singolare acchiappa fantasmi, alla scoperta delle tradizioni e dei luoghi storici dell'Inghilterra. Durante le vacanze di Natale del 1992 fu ospite presso un ospedale milanese, nei reparti pediatrici, per un piccolo spettacolo allestito assieme ad altri volti noti del programma Ciao Ciao, tra i quali Marco Bellavia. L'anno successivo le sue apparizioni nella trasmissione Ciao Ciao mattina si fecero più sporadiche, e occasionali. Paola Tovaglia morì prematuramente il 6 aprile 1994, tre giorni prima di compiere 29 anni a causa di una grave forma di tumore al cervello per il quale, era stata operata pochi mesi prima. A Paola Tovaglia fu dedicato anche l'editoriale del numero 38 della rivista Mangazin. Agosto 1994, in seguito le fu dedicata una canzone intitolata Paola cantata da Enzo Draghi e Manuel De Peppe. Paola riposa nel cimitero di Monte Murlo, in provincia di Prato.